una delle cose più belle di stare all'aria aperta dove è questo panorama così le isole egadi erice dita se si vede montagna grande che spettacolo va bene e attesa del turno e 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 Grazie a tutti. Noi siamo venuti da là, tutto sommato è abbastanza semplice, abbiamo pulito, e adesso dovremo scendere l'acqua, se la farà Max, scendere. Alla... 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 Alla...